A tutti voi buonasera dalla Tg Max. Il Consiglio regionale ha approvato due leggi contro Ombrina Mare. Entrambe prevedono che entro le 12 miglia dalla costa abruzzese non si potranno effettuare attività minerarie. Ora si attende la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dei quesiti referendari. Consiglio regionale unanime contro le trivelle in mare. La Sise ha approvato due leggi, armi in più, da poter utilizzare nel corso della conferenza di servizi del 14 ottobre in programma al Ministero dell'Economia e Sviluppo per bloccare il progetto Ombrina Mare. Soddisfazione è stata espressa dall'ex Assessore dell'Ambiente Mario Mazzocca che in aula ha sfoggiato la bandiera no Ombrina. Non solo un simbolo ma una sostanza, ovvero la voglia di voler affermare in tutti i modi possibili e consentiti la volontà di un territorio della nostra regione di scegliere il proprio tipo di sviluppo che è quello improntato a criteri di reale sostenibilità. Una delle due leggi porta proprio la firma di Mazzocca insieme al consigliere Pietrucci e ristabilisce il limite delle 12 mila marine per le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, limite già sancito dal decreto prestigiacomo. Questo ci consente di proseguire la strategia che noi abbiamo avviato con il manifesto di termine che si è concretizzata con la presentazione del referendum, ovvero in sede di conferenza dei servizi il 14 ottobre prossimo al Ministero noi porteremo questa legge approvata, vigente, in quanto abbiamo votato anche le mediate secundività, con cui consentiremo alla Corte Costituzionale di avere il tempo necessario ad esprimersi nel merito e quindi, se come noi ci aspichiamo, i quesiti vengano ritenuti legittimi, a esprimerci attraverso i quesiti referendari. Credo che sia un importante risultato e credo che l'intera nazione, perché poi alla fine siamo dieci regioni, ne possa andare orgoglioso. E sempre all'unanimità il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge presentata dal Movimento 5 Stelle e che sarà presentata in Parlamento. Anche la proposta di legge, che prevede l'abrogazione di alcune norme dello sblocca Italia e del decreto sviluppo, reintroduce il limite delle acque territoriali. La legge non servirà a bloccare ombrina, dichiara l'ex governatore Chiodi. Occorre un intervento forte presso il governo Renzi. La risposta di Mazzocca non si è fatta attendere. Intanto al Consigliere Chiodi ricordo che abbiamo fatto 12 ricorsi, fra Corte Costituzionale, di consaltare gli atti concreti ne abbiamo fatti diversi. Per esempio anche l'ultimo avverso il decreto di compatibilità ambientale su Ombrina, che segue un procedimento via che, come tanti, fino a un anno fa non erano frequentati dalla regione Abruzzo e nella regione si era mai espressa su nessun tipo di procedimento. Io credo che sia il caso da ricordare come, se è vero come questa regione venga ricordata per la regione dei parchi, ovvero con un 34% di territorio protetto, è vero anche che a seguito della famigerata strategia energetica nazionale, che non è dell'attuale governo ma di qualche governo precedente, il 37% del territorio invece viene destinato a ricerche petrolifere. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Mauro Mattucci e Antonio Gentile arrestati mercoledì scorso insieme ad altre 10 persone dalla Guardia di Finanza di Pescara nell'ambito dell'operazione denominata Bancomat, che ha smantellato un'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di reati tributari, truffa e danni dello Stato e di istituti di credito. I due arrestati sono rinchiusi nel carcere San Donato. Le 10 persone finite ai domiciliari saranno interrogate mercoledì prossimo. L'inchiesta conta 70 indagati e ha portato anche al sequestro preventivo di beni e quote societarie per quasi 100 milioni di euro. Dopo l'uscita della prima candidata a sindaco per le elezioni di primavera, Tonia Paolucci, con una lista civica di centrodestra, il sindaco uscente di Lanciano, Mario Pupillo, Cerca il Bisma, attende l'investitura del partito. Con calma, dice al Tg Max, nel frattempo il primo cittadino si concentra sul problema dei rifiuti. La terza scala dei motori, almeno con una lista civica di ex forzisti, ex Udc. Il sindaco Mario Pupillo, sindaco uscente, come si sta preparando alle prossime elezioni comunali? Con calma, con molta calma. In questo periodo siamo molto impegnati su alcune scelte, alcune progettazioni che stanno arrivando alla fase finale di realizzazione. Mi riferisco a alcuni cantieri importanti, alcune scelte che abbiamo fatto come quella di dare all'Ecolan dal mese di dicembre la gestione dei rifiuti urbani che in questo momento stanno vivendo un periodo di grande criticità con la Camassa che proprio l'altro ieri ha subito da parte nostra un'altra infrazione e quindi con una sanzione di 13 mila euro. Quindi queste scelte sono scelte importanti che la maggioranza sta vivendo con grande intensità e che quindi non ci permettono in questo momento di disegnare il futuro che tra l'altro è abbastanza chiaro e quindi non abbiamo problemi in questo momento. Quindi Mario Pupillo si ricandida? Direi di sì. Io mi ricandiderò alla prossima tornata elettorale. Ovviamente dovrò chiedere al partito e ai nostri alleati se la mia scelta può essere ancora condivisa. Mi auguro di sì, ma è una cosa che democraticamente le primarie sono nel DNA del centro-sinistra, quindi il centro-destra aspettiamo sempre che le facciano. Un esposto denuncia sulla balneabilità del mare avvasso e mancata tutela della salute dei cittadini lo ha presentato in procura il Movimento 5 Stelle per verificare quanto accaduto ad agosto quando la rottura di una condotta determinò lo sversamento di liquami fognari non depurati con conseguente superamento di limiti oltre quali legge prevede che le acque devono ritenersi vietate alla balneazione comune ricevuti dati dall'Arta. Invece di apporre il divieto aspettò analisi suppletive. Secondo l'europarlamentare Daniela Aiuto, il senatore Gianluca Castaldi e il consigliere regionale Pietro Smargiassi è stata così messa a rischio la salute dei bagnanti per diversi giorni. La giunta comunale di Pescara ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche stanziati 3.750.000 euro che saranno utilizzati prevalentemente per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. È un piano triennale delle opere pubbliche contenuto quello approvato dalla giunta comunale di Pescara che nel triennio 2016-2018 ha stanziato risorse per 3.750.000 euro. L'amministrazione infatti non può contare su maggiori fondi a causa della nota situazione finanziaria del mancato apporto della risorsa mutuo. I fondi saranno destinati soprattutto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e al completamento delle incompiute. In sospeso ci sono ancora lavori per la messa in sicurezza dopo le frane dello scorso anno. Tra quelli nuovi, i lavori antiallagamento con un intervento assandonato non previsto nelle precedenti annualità per eliminare i problemi che si verificano ogni volta che arrivano piogge copiose. Il sindaco Marco Alessandrini. Il triennale che noi andiamo a presentare pone al centro dell'azione amministrativa di questa città la manutenzione e la cura della stessa perché siamo convinti che la manutenzione e la cura della città sia l'opera pubblica più importante, più visibile in una città che ha bisogno di cura e di attenzione. Lo facciamo naturalmente con le disponibilità di bilancio che abbiamo in una situazione assai complessa. Però quest'anno siamo nella condizione di poter investire in questo campo 3 milioni e 750 mila euro che sono una somma ragionevole per affrontare naturalmente in un'ottica prioritaria le criticità che investono nella nostra città. L'ambizione naturalmente è quella poi di poter fare sempre meglio, di poter aggredire sempre più angoli del campo. Tentano di rubare un furgone in via Alessandrini a Vasto e Manette 4 Pugliesi, una donna e tre giovani di cui uno minorenne ad avvertire i carabinieri è stato un cittadino. I ladri sono stati intercettati proprio mentre salivano a bordo di un'auto guidata da una complice all'interno dell'auto era nascosto un piede di porco mentre un'altra chiave alterata simile a quella trovata inserita nel blocco di accensione del furgone che stavano tentando di rubare è stata trovata nelle tasche della donna. Ed ora ci spostiamo a Scafa dove una famiglia vive in condizioni a dir poco precarie in un alloggio Ater per cui l'ente chiede canone arretrati per circa 16 mila euro. La denuncia al Tg Max del consigliere regionale Leandro Bracco del gruppo Misto. A Scafa una famiglia di quattro componenti, tre dei quali invalidi e un minore, vive in un alloggio Ater in condizioni a dir poco precarie. La beffa è il mandato per lo sfratto esecutivo. Infatti dopo il decesso di un congiunto intestatario dell'alloggio, l'Ater con una lettera reclamava canoni di affitto ben più elevati delle cifre pagate in precedenza così da accumulare un debito di 16 mila euro. I coniugi hanno mostrato alle nostre telecamere i vari pagamenti effettuati all'Ater di Pescara, circa 15 euro al mese come dovuto all'origine, versati in un'unica soluzione, arrivando addirittura a pagare fino a dicembre 2015. Ma non è bastato. L'appartamento è fatiscente, pieno di muffa, finestre e tapparelle rotte, mancanza di raccolta di acqua nel caso di pioggia e senza riscaldamento. La signora Maria Antonietta, invalida e madre di un minore, dice sarcastica, se piove qui dentro diventa Venezia e asciugare l'acqua di continuo non basta. Il comune di Scafa ha aiutato a pagare le quote del canone, ma senza i controlli nei diversi alloggi per verificare le effettive condizioni abitative e ancora più verificare se in tutti gli alloggi assegnati in precedenza ci sia ancora il requisito per risiedere ancora in quel posto. Il consigliere regionale Leandro Bracco sottolinea che si occuperà e controllerà l'evoluzione della vicenda, annunciando altri blitz nell'entroterra per far chiarezza sulle assegnazioni e le condizioni degli alloggi in questione. Innanzitutto io provo una grandissima rabbia perché siamo in un alloggio Ater di Scafa abitato da una famiglia di 4 persone, 3 disabili e un minore. I 3 disabili, marito, moglie e un figlio e un ragazzo di 25 anni, tutti disabili oltre al 75%. Stiamo in un appartamento dell'Ater che si trova in condizioni veramente a dir poco pietose. Quando piove la camera deletto si trasforma come se si fosse a Venezia. Muffa dappertutto, i termosifoni non esistono, l'abitabilità, l'ufficio igiene già tantissimi anni fa non l'ha data, voleva lo stesso ufficio igiene che questa famiglia abbandonasse questa abitazione e invece questa famiglia, perché non si ritrova, non ha la possibilità di andare in un altro appartamento, è rimasta qui. Qui l'igiene non esiste, questa a mio parere è una fogna a cielo aperto e io credo che il sindaco di Scafa avrebbe quantomeno il dovere morale innanzitutto di redigere un decreto d'urgenza per fare in modo che questa famiglia abbandoni questo appartamento, appartamento tra virgolette, e possa andare in un altro alloggio civile e degno per essere vissuto, perché veramente qui è un inferno. Il centro funzionale d'Abruzzo ha previsto l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge intense e temporali su tutta la regione a partire dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore emanato un avviso di criticità regionale con previsione di codice arancione, criticità moderata per rischio idrogeologico localizzato sull'intero territorio regionale. I fenomeni saranno diffusi e persistenti per l'intera giornata di sabato, a prevalente carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità e colpiranno in particolar modo il versante orientale della regione. Domenica, soprattutto sul versante adriatico, sono attese ancora precipitazioni nella prima fase della giornata e tenderanno ad attenuarsi a partire dal pomeriggio. La protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di predisporre e attuare tutte le misure previste dai piani comunali di emergenza e di vigilare il territorio. Inizia domani la settimana europea del codice che vede protagonisti in Abruzzo 4.000 studenti. Il pensiero computazionale viene spiegato anche ai bambini delle scuole primarie. siamo andati a curiosare nella classe quarta A dell'Istituto Ereo Tobrini di Lanciano. Che cosa stai facendo al computer? Sto giocando a un gioco dove insegnano praticamente a conoscere la tecnologia. Che gioco è? È un gioco dove ha l'era glaciale, dove tu sei lo scogliattolino, dove devi saltare da un blocco di ghiaccio all'altro fino ad arrivare la ghianda. E tu che cosa fai spostando quelle strisce colorate, azzurre, rosa e arancione? Lo faccio muovere, mettendo questi blocchi lo faccio muovere. Quindi sei tu che dici al computer cosa fare? Sì, spostando i blocchi che stanno qui. Praticamente li prendo qua e li attacco alla scala. Il primo blocco cosa dice al computer? Dice cosa fare. Il primo blocco dice con cosa iniziare. Poi ci sono gli altri. Mette un blocco, capisce il primo e poi va all'altro. Capisce questo secondo blocco e va al terzo. Fino a finirlo. E se riesci ad arrivare fino alla ghianda, hai vinto. E vai a livello superiore. Ti fa ragionare come puoi rintracciare gli altri omini. Qualcuno è facile, ma gli altri anche un po' difficili. E il computer fa quello che dici tu? Sì, solo quando io glielo dico, se no non fa niente. Cos'è per te il computer? È una macchina. A cosa ti serve? A fare molte cose, quelle più impegnative, se no le puoi fare a mente. Dei giochi, dei videogiochi, per cercare di capire come funziona il computer. Esatto. Rati con questo coding ci ha dato l'opportunità di dimostrare ai bambini un approccio al computer completamente diverso. Che non è soltanto il gioco, il giochetto, la fruizione, la ricerca su internet, ma è il linguaggio della programmazione. Inizialmente, quando nelle prime riunioni, sentir parlare di linguaggio computazionale, sinceramente ho pensato che fosse troppo difficile per i bambini della primaria. Poi invece, vedendo sulla piattaforma di cosa si trattava, vedendo un po' la modalità, mi sono accorta che era invece un approccio possibile. E anzi, le remore sono degli adulti, i timori, le remore sono proprio l'adulto che ha un atteggiamento un po' dubbioso, incerto. Invece i bambini hanno comunque un approccio ludico e loro con lo stesso entusiasmo si avvicinano a qualsiasi cosa. Quindi programmare, quindi dare ordine al computer, per loro è molto agevole, anche perché sono nativi digitali, a differenza nostra. Io non lo so se un domani tra di loro verrà fuori qualche programmatore, ma sicuramente hanno capito che è una macchina che va programmata, alla quale vanno date delle indicazioni precise, chiare e abitua anche a linguaggi, non solo al linguaggio delle cose, ma anche al ragionamento, al problem solving, alla cooperazione, che aiuta a tutti i livelli, non soltanto per programmare un pc. La pagina sportiva, la Virtus, prepara con serenità la trasferta di Dominica Bari, out piccolo e marilungo. Intanto il tecnico d'Aversa dichiara il TG Max, sono forti, ma non dobbiamo temerli. Dopo aver superato indenne l'esame Spezia, un'altra grande della Serie B sulla strada della Virtus, il Bari di Davide Nicola, che in realtà non è partito fortissimo e ha denotato qualche problemino nella manovra, soprattutto in casa. Quella pugliese è una squadra da contropiede. Tutti i galletti ammettono che fino ad ora sono arrivati i punti e non il bel gioco. D'altra parte, con attaccanti del calibro di Sansone, De Luca, Rosina, Maniero, Valiani, non è difficile fare punti. Il Lanciano non ha una tradizione positiva al San Nicola, questo lo sappiamo, resta nell'albo dei ricordi, i brutti ricordi. Il 4-3 del primo anno di Serie B, con Gautieri in panchina e con i rosso-neri che erano in vantaggio per 3-0. L'anno successivo 1-0 immeritato per il Bari. La scorsa stagione 2-0. Beh, sarebbe ora di invertire la tendenza. Per quanto riguarda la squadra, ancora out piccolo, ha fatto bene. Verrà riproposto Luca Di Matteo al suo posto, pronto a rientrare invece Aridità. Anche se forse in porta giocherà dall'inizio ancora Casadei, che all'esordio ha fatto molto bene. Non ci sono possibilità per far esordire l'attaccante Marilungo, se ne parlerà la prossima volta. Invece sta bene Ferrari e Roberto D'Aversa, prima della partenza per la Puglia, dispensa serenità. L'importante è non seguire gli eventi, non farsi trascinare magari dal pubblico, da alcune situazioni particolari. Rimanere sempre concentrati su ciò che dobbiamo fare, sul fatto di rimanere compatti in fase difensiva, rimanere concentrati. Nel momento in cui si è in possesso palla, di essere sereni e fare un giro palla, come abbiamo fatto l'altra volta, in maniera veloce. Non forzare la giocata, dove non c'è la possibilità, ma facendo comunque una gestione palla accurata e fatta in maniera per bene, prima o poi qualcosa si libera e quindi di conseguenza da lì lettura immediata, a seconda della fase difensiva che fa la squadra avversaria, a trovare la soluzione di gioco. I frentani sono dunque pronti a partire. L'arbitro della sfida sarà Valerio Marini di Roma, un esordiente in pratica nel campionato di Serie B, ma neanche questo sembra preoccupare l'allenatore della Virtus. Sappiamo che è un arbitro esordiente, evidentemente se è stato messo ad arbitrare in Serie B vuol dire che chi ha giudicato il signor Maremma all'altezza della situazione, quindi sappiamo che magari dobbiamo stare solo sereni a livello comportamentale, continuare come stiamo facendo, non sospettire nessuno. Poi gli errori li possiamo commettere tutti quanti, quindi figuriamoci se dobbiamo stare lì a pensare all'arbitro, se è esordiente o esperto. Tanto voglio dire, abbiamo dimostrato in passato che magari anche giocando in 11 contro 10 si è ottenuta una vittoria di un campionato, quindi dobbiamo solo pensare a fare le nostre cose, poi per gli albitri ci saranno altri a giudicare il loro operato. Per il Pescara ad Ascoli sarà quasi derby, anche in questo caso c'è una tradizione negativa da invertire. Per Fiorillo e Zuparic la forza del Pescara sta nel gruppo. In Serie B è in arrivo una domenica tutta da gustare, domani gli anticipi Vicenza, Crotone e Provercelli-Novara, poi il resto della settima giornata con posticipo serale tra Ascoli e Pescara. C'è chi dice derby, in ogni caso ci va vicino, ma per il Pescara la tradizione al Del Duca è tutt'altro che favorevole, dunque da invertire anche per la legge dei grandi numeri. L'ultima vittoria dei Biancazzurri nelle Marche risale a 27 anni fa, da allora soltanto amarezze. Questo Pescara inizia a carburare per bene, la qualità non manca di certo, l'obiettivo è ambizioso, anche perché si è già formato un gruppo coeso, parola di portiere Vincenzo Fiorillo. Siamo in una fase di crescita, è una squadra molto forte che ha bisogno di assestarsi, di trovare tutte le componenti che servono in questo campionato, è un gruppo importante, questo ci tengo a sottolinearlo perché sono tutti giocatori veramente validi e questo farà alla fine, sarà un tassello molto importante per l'intero campionato. Veniamo ad Ascoli, quanto può incidere il fattore ambientale sul risultato del campo? Ma onestamente il fattore ambientale sì, può incidere, ma fino a un certo punto, nel senso che noi comunque avremo i nostri tifosi al seguito, sappiamo che è una partita sentita, però noi dobbiamo pensare a continuare il nostro cammino che abbiamo iniziato sabato, a prescindere dalle condizioni ambientali, dobbiamo essere bravi quando andiamo fuori casa, ad avere comunque il nostro tipo di atteggiamento e quando siamo in casa a ricreare questo entusiasmo che sta continuando ad esserci. Per domenica non ci saranno tre quarti di centrocampo titolare, Memushai, Verre e Mandragora impegnati con le nazionali, sono scesi in campo ieri. Dunque toccherà a Bruno, che sarà all'esordio davanti alla difesa, a Selasi e Valoti con Torrera, che potrebbe anche essere schierato vertice alto nel rombo centrale. In difesa qualche problema per Zampano, ma dovrebbe recuperare per l'ultimo allenamento di domani. Potrebbe esserci spazio per Campagnaro, ma per una difesa a tre è forse ancora presto. Intanto Zario Zuparic, a proposito dell'argomento, è sicuro del fatto suo e spiega anche perché non teme l'attacco dell'Ascoli. Sì, secondo me è uguale. Non cambia niente. Se gioco contro Ronaldo o Caccia è uguale. Devo dare 100%. Difesa a tre o difesa a quattro? Cosa cambia per un centrale difensivo dalle tue caratteristiche? Niente. Per me è uguale. Se gioco difensore centrale, terzino o mediano, devo dare 100%. I bianconeri non saranno soltanto Caccia, nel 3-5-2 tra i più esperti anche Giorgi Antonini, Canini e Mengoni. Si prevede che l'onda biancazzurra conterà circa 1500 persone. Uno degli ultimi arrivati in casa scolana è Francesco Marrocco, che ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo del Cagliari e ha ribadito l'obiettivo salvezza per gli Ascolani, ma i progetti, dice, sono ambiziosi. Una partita non può cambiare il corso del nostro campionato. Diciamo che ci aspettiamo di continuare sulla falsariga di Como, con il miglioramento fisico della squadra, tattico, che già si comincia a intravedere. Però è un campionato talmente lungo e massacrante che una partita non può cambiare le sorti della stagione. Noi l'abbiamo ribattezzato Sunday Night, sarà un grandissimo spettacolo anche sugli spalti. Ascoli meritava un palcoscenico del genere dopo tanti anni di sofferenza. Ascoli merita uno stadio nuovo, una squadra in Serie A. Io sono veramente convinto che qua si possa aprire un ciclo molto importante. Quindi invito tutte le componenti a stringersi intorno alla squadra e far sì che appunto per questa stagione si possa intanto mantenere la Serie B per poi gettare le basi per ottenere poi i risultati che una proprietà come quella rappresentata da Bellini può sicuramente sostenere. Ad arbitrare la sfida è stato chiamato Federico Lapenna di Roma. Il Pescara andrà in ritiro prepartita da domani sera. Ed era l'ultimo servizio in scaletta. Vi ricordo questa sera a partire dalle ore 20 e 30 un nuovo appuntamento con la trasmissione a muso duro. Servizi, programmi sono disponibili sul nostro sito internet tgmax.it. Grazie dell'attenzione e arrivederci a domani. Grazie.